Oggi il Teramo a che percentuale è di condizione? Non riuscirei anche volendo, nel senso che stiamo andando secondo me bene, perché ad oggi tutti gli effettivi si stanno allenando per preparare la partita con il Perugia per completare bene questa settimana, poi entraremo nella settimana del campionato, cercheremo di fare la settimana tipo e portare la squadra in maniera più brillante per affrontare partite di un campionato molto selettivo e molto difficili. Contento di ritrovare Filippo Capitanio? È un ragazzo che ho allenato l'anno scorso, c'è stata la possibilità di portarlo, è un ragazzo che ha nella sua testa la volontà di fare il calciatore di un certo livello, questo di lui mi piace, viene a completare un reparto già forte, quindi sono assolutamente contento. Di Bulevardi? Ho detto qualche giorno fa, è già qualche giorno che è con noi, abbiamo fatto tutto un ritiro con l'infortunio di Ilari che oltretutto ci ha penalizzato con pochissimi giocatori al centrocampo, quindi l'innesto di Bulevardi è un ragazzo giovane che ha voglia di fare il calciatore, quindi questi sono i presupposti importantissimi per far parte del terramo di quest'anno e quindi sicuramente sarà un giocatore giovane con già un paio di esperienze in Lega Pro e quindi sarà molto importante. Restiamo al centrocampo, Amadio? Io ripeto sempre la stessa cosa, ragiono anche un po' da ex calciatore e penso che qualsiasi professionista di qualsiasi campo, se potesse migliorare la propria carriera, prenda la palla al balzo, quindi i rapporti con Amadio sono ottimi, col sottoscritto, con la società, stiamo valutando se c'è la possibilità per il ragazzo di migliorare la propria carriera, quindi non sarò certo io a togliergli questa possibilità. Detto questo, se salta tutto, io sono il primo a essere contento perché ritengo Amadio un leader di questo gruppo, un giocatore forte e quindi vedremo i sviluppi, è chiaro che non aspetteremo il 28, il 29, il 30 perché dalla prossima settimana chi si allenerà qui si allenerà per vincere a Lumezzano quindi ci saranno dei tempi, però questi sono un po' i scenari personali sulla faccenda di Amadio.